Insomma, Silvia Borrelli, vorrei chiederti, e non posso non farti questa domanda oggi, perché tu hai scritto qualche giorno fa un pezzo sul Financial Times che ha fatto molto discutere il mondo politico, perché sostenevi che un Draghi, non più Premier, ma nuovo capo dello Stato, minerebbe la stabilità politica italiana. Ma Draghi Alquirinale non sarebbe invece una garanzia per la stabilità del Paese? Ma intanto la prima cosa che vorrei dire è che non era una mia opinione, cioè un articolo che è stato scritto con il mio caporedattore che da Londra è venuto a Roma ed è il risultato di parecchie conversazioni con parlamentari, addirittura ci sono citati in forma anonima due ministri del governo Draghi, quindi i mercati, l'economia, gli speculatori internazionali, non c'entrano niente. E questa è la prima cosa che andrebbe sottolineata, perché non è che c'è un disegno di qualcuno per lasciare i poteri fondi che vogliono lasciare Draghi. Dice Giulia questo è un buon segno. E questo già è un buon segno, ma soprattutto secondo me sarebbe importante in questa fase evitare una certa dietrologia, perché voglio dire, io non mi ritengo così importante da poter rappresentare né i poteri forti, né i mercati, né qualche forza superiore che vuole direzionare la politica italiana. Quindi questa forse è la prima cosa da dire, era un articolo di analisi basato su molte conversazioni fatte a Roma, non chissà dove. A parte questo, diciamo che sì, per carità, Draghi al Quirinale, stabilità, però direi anche che visto che citiamo sempre la nostra Costituzione, quando ci fa comodo, la nostra Costituzione ci dice che il potere esecutivo è del governo, non è del Presidente della Repubblica e francamente il quarto governo in quattro anni, perché questo succederebbe se Draghi andasse al Quirinale, sarebbe almeno nel breve termine una fonte di stabilità. Si potrebbe votare per esempio. Possiamo dirlo, cioè le elezioni anticipate potrebbero essere una fonte di stabilità o nel momento in cui il Presidente del Consiglio, che sarebbe tra l'altro la prima volta che un Presidente del Consiglio deve rassegnare immediatamente le dimissioni perché diventa il successore del Capo dello Stato nelle mani di cui rassegna le dimissioni, cioè è comunque un qualcosa di delicato anche da spiegare forse a chi non segue molto da vicino la politica italiana e che adesso ci vede come un marlume di stabilità in Europa, mentre in altri paesi stanno cambiando i governi, si va a elezioni, eccetera, e dopo dieci mesi stiamo parlando nuovamente di un potenziale cambio al vertice. Insomma dire che forse il quarto governo in quattro anni non è proprio una cosa normale e che la Merkel è stata a 16 anni a guidare la Germania e forse in un anno neanche Draghi cambia l'Italia nel profondo, forse questo lo possiamo dire. Questo lo possiamo dire e naturalmente apriremo io adesso, non approfondisco questo aspetto perché avremo modo di discuterne ancora e molto spesso, vi faccio vedere.